Sono sei o sette i casi di prostitute seviziate sui quali sta indagando la procura di Firenze nell'inchiesta sulla donna trovata morta alla periferia della città, nuda in ginocchio, a braccia aperta e legata con nastro adesiva a una sbarra come una crocifissione. Fra i precedenti l'aggressione più vecchia risale al 2006, mentre un caso è avvenuto nel campo delle Bartoline, dove nel 1981 venne uccisa una delle otto coppiette vittime del mostro di Firenze. Chiaramente stiamo valutando tutti i fatti, stiamo iniziando a rivedere d'accordo con la procura anche fatti precedenti che possono avere delle analogie, ce ne sono, vanno rispolverati fatti vecchi, va rivisto tutto, dare dei numeri oggi significa dire delle sciocchezze, quindi preferisco evitarle. La 26enne romena è stata trovata morta sotto un cavalcavia. La ragazza è stata legata alla sbarra utilizzando del nastro da pacchi riconducibile all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Lo stesso nastro sarebbe stato usato anche in uno o più casi precedenti. La giovane in Italia ad alcuni anni lavorava in strada senza far parte di un'organizzazione. Per questo motivo sarebbe difficile risalire al luogo dove è stata avvicinata dal suo cliente. Accertamenti sono in corso per ricostruire le ultime ore di vita, in particolare per individuare le persone con cui è entrata in contatto nella giornata di domenica.